L'ultimo giorno di mercato ha portato in bianconero tre giocatori molto interessanti. Il primo di questi è Rui Modesto, portoghese di origine angolana e classe 1999, che arriva dall'Aikap a Sonna, Svezia, per la cifra di un milione e mezzo di euro. Questo arrivo, unitamente all'addio di Obosele, o meglio all'arrivederci dell'irlandese visto in prestito al Watford, concretizza la rivoluzione sulla fascia destra, iniziata dalla mancata conferma di Joao Ferreira, poi veleggiato in patria, al Braga. Adesso sulla destra Costa Runec ha due elementi molto interessanti, Kingsley e Isibu è rimasto nonostante le voci di mercato e difeso dalla corte del Colonia, che voleva riportarlo a sé, con capolavoro contro il Como. Indirettamente sarà stato stimolato già dalla concorrenza futura di Rui Manuel Muati, Modesto, alto elemento per la fascia destra, che ha mosso i suoi primi passi alla Feiteira, prima e poi nella squadra del suo paese, il Vendas Novas, prima di approdare al Vittoria Setúbal. Il salto della sua carriera arriva nella patria di Babbo Natale, in Finlandia, dove mette subito in evidenza doti al di sopra della media della categoria finnica, anche se con un piccolo problema, la capacità realizzativa. Pur essendo un esterno destro, Rui Modesto si presentava regolarmente a rete, non mostrandosi un campione di cinismo. Nove gol, in più di 50 presenze con l'Onca, statistiche che cambiano in Svezia, perché con i gialloneri dell'Aikappa segna 12 reti in 49 presenze, oltre a un buonissimo numero di assist. A Rui Modesto piace sprintare, puntare l'uomo, ma anche dribblare, e cercare la superiorità numerica prima di passare il pallone in area. Come Isibue preferisce la fase offensiva a quella di copertura, ma la interpreta con caratteristiche diverse che cercano anche spesso l'interno del campo. Quello che Runec sta chiedendo più spesso anche a Isibue, perché vuole esterni proattivi che partecipino alla manovra per arricchire di soluzioni la fase di conclusione dell'azione. E Rui Modesto, sulla carta, può avere davvero tanti margini di crescita, migliorando la fase difensiva, perché davanti sarà una scheggia impazzita, che difficilmente i dirimpetai riusciranno ad arginare.